Nel 2019 Encom presenterà una nuova gamma di interfoni, quindi oltre alla famiglia consueta del B901 nascerà B601, un interfono un po' più economico, avrà meno funzioni, non cambierà la qualità dell'audio e così come anche la sua capacità di ricezione del segnale. Quello che si ridurrà invece e che a voi probabilmente interessa è il prezzo, meno il 30% circa.